Quando scatta la fame c'è solo un posto che mi viene in mente, la Lanterna 2. Sono sempre sicura di trovare il piatto in grado di soddisfare le nostre voglie. Come? Scegliendo tra la cucina toscana, il fritto napoletano, gli hamburger e soprattutto la famosissima pizza di Ciro, garanzia di qualità e bontà. Nell'ampio locale rinnovato in Viale Adua 466 potrai gustare la tua scelta a chiuso oppure nell'ampio giardino all'aperto. Ampia scelta di birra e vini per accompagnare i tuoi piatti dalle 19 alle 24.